Super lavoro notturno per i vigili del fuoco a Napoli a causa delle decine di roghi appiccati ai rifiuti da cittadini esasperati in molte zone della città. Ieri sera un blocco stradale degli abitanti del quartiere fuori grotta ha provocato enormi disagi e attimi di tensione. Esasperati dalla puzza e dall'impossibilità di passare sui marciapiedi hanno bloccato il traffico veicolare ostruendo la strada con sacchetti di immondizie a cassonetti. Il traffico, particolarmente intenso a causa dello sciopero dei mezzi pubblici, è rimasto completamente bloccato per ore. E intanto la procura di Napoli ha nominato tre consulenti per le verifiche nella discarica di Chiano, costruita, secondo l'accusa, in maniera approssimativa e con materiale scadente proveniente da imprese vicino al clan dei Casalesi. Si tratta dei professori Franco Ortolani, Angelo Spizzuoco e Paolo Croce, quest'ultimo dell'Università di Cassino. I tre esperti dovranno compiere accertamenti nell'impianto, in particolare sugli argeni liberi che sarebbero dovuti essere collaudati nei giorni scorsi, ma all'ultimo momento c'è stato un rinvio. E in profondità, i PM Antonello Ardituro e Marco Del Gaudio, titolari dell'inchiesta, stanno valutando se chiederà al GIP un incidente probatorio. Una richiesta in tal senso è già stata avanzata dall'avvocato Gennaro Lepre che assiste la IBI, una delle società coinvolte nell'inchiesta.